In Galdus ho trovato una scuola dove l'attenzione educativa è sempre al centro. Ogni studente è accompagnato nel suo percorso di crescita, scoperta del proprio talento e valorizzazione del potenziale. Una scuola dove la qualità della didattica rende l'apprendimento stimolante perché, grazie alle competenze di docenti professionisti, ogni lezione è progettata per accrescere le proprie competenze trasformando il sapere in una vera passione. Una scuola dove gli studenti vengono incoraggiati ad aprirsi al mondo grazie ai viaggi studio all'estero, per favorire la loro crescita personale e professionale. Qui la collaborazione con le imprese rende la didattica sempre attuale e in linea con le evoluzioni che il mondo del lavoro richiede. I stagi in azienda sono parte integrante del percorso di crescita di ogni studente. Scegliendo Galdus ho trovato un luogo in cui i sogni prendono forma e le potenzialità si trasformano in realtà. Scegli Galdus dove le aspettative si mantengono, dove il futuro si crea, dove ogni studente conta. Scegli Galdus ho trovato un luogo in cui i sogni prendono forma e le potenzialità. Scegli Galdus ho trovato un luogo in cui i sogni prendono forma e i sogni prendono porta.